Benvenuti all'edizione del 10 aprile. Oggi giornata di lutto nazionale per il terremoto che ha colpito l'Abruzzo. Vediamo subito il servizio. A prima vista sembra una comune giornata di primavera, turisti in giro per le vie del centro e il sole che bacia gli storici palazzi fiorentini. Ma all'occhio dell'osservatore non possono passare inosservate quelle serrande abbassate, quel lutto discreto che Firenze stamani è voluto dedicare alle vittime della tragedia dell'Abruzzo in concomitanza con i funerali di Stato. Dalle boutique di lusso ai negozi di souvenir, nessuno si è voluto sottrarre all'invito lanciato ieri da Confesercenti e Confcommercio. Ma la solidarietà con le popolazioni colpite dal terremoto non si è fermata. La prefettura di Firenze ha coinvolto tutti gli uffici pubblici, dalle istituzioni alle scuole, la bandiera italiana e quella europea. Questa mattina erano listate a lutto. Dopo la sparatoria di due settimane fa ad Arezzo sono stati arrestati quattro albanesi. Vediamo il servizio di Greta Settimelli. Le indagini sulla sparatoria di via Torricelli ad Arezzo portano altri quattro soggetti a fare i conti con la giustizia. Stavolta non legati direttamente al fatto di sangue ma in ogni caso al cosiddetto giro di bande rivali abituate a scontri e scorribande notturne. Si tratta di quattro albanesi denunciati con l'accusa di lesioni aggravate per aver aggredito un gruppo di rumeni nei pressi del McDonald di Arezzo. La rissa sarebbe precedente alla sparatoria ma le indagini condotte dagli uomini della squadra mobile di Arezzo fanno pensare ad un possibile collegamento. I denunciati infatti risultano legati alla banda di cui faceva parte Agim Leca, l'albanese morto nel conflitto a fuoco. Anche i motivi dell'aggressione ai rumeni, come del resto la sparatoria, sarebbero da ricercarsi nel mondo della prostituzione. La polizia scientifica ha poi concluso i rilievi sulle autovetture coinvolte nella sparatoria ma sulle risultanze vige il più stretto riservo. Le indagini proseguono e non guardano in faccia nemmeno le festività pasquali. Mancano all'appello almeno altri due soggetti e la squadra mobile Aretina ha tutte le intenzioni di assicurarli al più presto nelle mani della giustizia. Iniziativa di solidarietà in occasione della partita Fiorentina-Cagliari che si gioca la vigilia di Pasqua. Verranno distribuite allo stadio Artemio Franchi le uova di Pasqua da parte dell'associazione Giuseppe Tomasello Onlus. Con un contributo di 5 euro si può contribuire alla ricerca per aiutare bambini. Comunque per qualsiasi ulteriore informazione è possibile andare a vedere sul sito della fondazione Giuseppe Tomasello. E con questo è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione del TG Web. Grazie a tutti.